Nella puntata pilota del Fat Old Boy Show Allora, amate, dimmi cosa ne pensi tu, questa è la domanda ricorrente, del mio essere in sovrappeso Il progetto si avvale dell'idea di dimagrire per la prima stagione Sono 80 kg, l'obiettivo è quello Sono 88 e 8, quindi se domenica sarò 88 e 7, la puntata sì, farà Se sono 88 e 9, la puntata rimarrà pilota FOPs, ovvero Fat Old Boy Show Sì, siamo tutti entusiasti, insomma Non mi piace FOPs, ad ogni modo FOPs, Fat Old Boy Show Non ce ne andrò sempre con questa cadenza Vabbè, certo Dimmi, genovese, cosa pensi del mio essere in sovrappeso? Fatti, non ho il cuore, ma Dai Guarda me Non mi posso esprimere su questo punto, perché io ho scoperto questo weekend che anziché perdere 2 kg in questo mese Sì, ma io ho un ginocchio rovinato che dovrei preservare E questo mi insegna a, in questo momento della mia vita, non dire Ah, inizio a giocare la calcetta così perdo i famosi 2 kg Ma, non faccio un cazzo perché altrimenti mi non continuo Allora Matte, stamattina ero 88 e 2 E questo potrebbe essere un problema, sai Perché se domenica sono troppo meno di 88 e 8 Poi ovviamente la domenica successiva ancora Il pubblico si aspetterà che tu sarai meno ancora E dovrò esserlo, altrimenti non si fa la puntata, capito? È un problema, cioè l'ideale sarebbe diventare 88 e 7 questa domenica Oppure se ci sono anche i numeri più piccoli, 88, 7, 5 Capito? E non 88 e 8 Quindi il risultato è, dobbiamo ricomprare la bilancia Ci vuole una bilancia che misuri anche le particelle più piccole Cioè tipo ti cade un baffo Tipo quella da orafo Esatto Il bilancino, tipo anche quello degli spacciatori E mi metto sopra io Cioè oltre a lottare contro te che mangi Bisogna lottare anche contro la tua voglia di non dimagrire Esatto, esattamente, sì È più difficile quanto pensassi Ciao Quindi Mary, allora fatti spiegare La situazione è questa Io questa mattina peso 87,2 kg Hai capito? Stai mentendo No, giuro Nudo Nudo Sì, invece quando mi peso per The Fat Old Boy Show Mi peso in mutande e maglietta E no, allora dobbiamo stabilire una tenuta dock Specificamente per la pesata per Fox Certo Mutande e magliette Ah vabbè, mutande e magliette ci stanno le scarpette Niente scarpette Niente scarpette Piedi nudi Quindi insomma se oggi pesavi 82,2 kg 87,2 kg Come 87,2 kg? Hai capito? Ma questo è uno shock E questo è uno shock Anche perché cosa succede? Come ho già spiegato Se io peso troppo di meno Poi la settimana ancora dopo Non ce la faccio a pesare di meno Perché oscillo il peso Quindi cosa devo fare? Senti l'idea Senti l'ideona Praticamente Cosa hai fatto? Hai vomitato? Una puzzetta? Cos'era? Ho fatto una puzzetta Scusate L'ideona è questa Io stasera mi sfondo No Di mangiare Anche se non ho fanno Ma vedi che manca servizio Allora domani Eh lo so No Allora la cena la posticipiamo a domani sera No Cozze d'antipasto Allora c'è subito da dire C'è subito da dire Linguine con le canocchie Che André sta preparando una cera Sì E tu non vieni Perché se no a Caffone Hai preso la scusa di tuo fratello No Che scusa? Per non venire Allora Devo andare dritto qua Ma perché allora noi veniamo da là Quando torniamo? Vabbè Ad ogni modo Ad ogni modo Hai capito qual è la cosa bella di questo reality? Che tu anche se non hai fame Mangi Sforzandoti di mangiare Così Non dimagrisci troppo per la puntata successiva E così dimagrisci nel lungo tempo Mangiando di più di quanto avresti bisogno Insomma domani la puntata non si fa Slurp Carina Perché mi registri sempre quando mi sto soffiando il naso? Riesce ad essere sexy anche in queste situazioni Comunque Sai cos'è che veramente Sai che cos'è che veramente mi è riuscito in tutto questo? Dimagrire Ho già perso un chilo 87,2 Più di un chilo è capitato? Ma vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori com'è che hai perso questo chilo Perché la gente ti segue Ovviamente per sapere poi come poter mettere in pratica questo programma di dimagrimento Allora le cose sono state due La prima è che noi facciamo un teatro molto dinamico Io e Maria Grazia siamo colleghi e facciamo scuola di teatro Molto dinamico molto no? Si suda parecchio Due lezioni a settimana E tre ore l'una Perché? E poi perché mi sono rimesso a cucinare carameri full? Tu non me ti sei rimesso a cucinare? Tutta questa settimana ho cucinato insomma è andato a mangiare fuori Cioè Quindi possiamo dire subito agli ascoltatori che cucinare il casa fa dimagrire Anche se sono peperoni ripieni di carne Slurp Il salame di cioccolato Non voglio parlare delle tue esperienze con ragazzi africani Voglio parlare del fatto che io sono dimagrito tanto Mary Ma l'abbiamo appena detto No abbiamo detto E soprattutto dobbiamo subito dire che non hai pranzato Sono le Cazzo è vero 15 Però ho fatto colazione alle 11 15 e 35 No che cazzo dici come? Sono partita alle 9 e mezza Alle 9 Hai fatto colazione alle 8 e mezza Alle 9 sì Alle 9 ho fatto colazione Cornetto capriccioso Come cornet? Come si dice? Cappuccino Slurp Fai doppiamente schifo Perché se tu Con il minimo sport che facciamo a Grok Perdi un chilo in una settimana Vuol dire se che a quest'ora fossimo Ma hai visto quanto sudo? Ma quando è che andiamo dai P-Fit? Oggi siamo stanchi? Oggi siamo stanchi? Grazie. La buona notizia è che la puntata si fa, la cattiva è che sono dimagrito troppo. Allora è arrivato il momento che tutti aspettavamo. Sì, tutti. 23 persone ci hanno visto. La bellezza di 23 persone. Allora, le 23 persone che ci hanno visto aspettavano questo momento in maniera... Mary, sono 87... Ci siamo pesati. Aspetta, dobbiamo fare una presentazione. Allora, è due ore che sta durando questa presentazione. Allora, dai, dillo. 87 e 2. Impossibile. Impossibile che da ieri a oggi tu non abbia messo né tolto neanche un grammo. A parte che ieri mi sono pesato vestito. No, hai detto che eri mutande. Sì. E canotta. Ma ieri abbiamo fatto un sacco di attività fisica, Mary. Eh. E quindi ho perso qualcosina. E ieri sera non abbiamo mangiato. Lumachine piccantissime di mare. Con rosmarino, aglio e... No, non ci ho messo il pomodoro. L'ho fatto con un po' di vino a sfumare alla fine. Cozze, satè di cozze, però senza pepe e senza limone. Quello mi è venuto a mancare tantissimo. Come senza pepe? Perché? Ti mancava? Volevo il limone. Mi ha rovinato tutto il piatto. E poi le linguine al sugo di cicale. Oppure di canocchie. Com'è che hai cambiato totalmente la... Capigliatura? Perché mi sono fatto... Eh? La ricetta di che? Vabbè, questo per quanto riguarda la cena. Nel post-cena che cosa abbiamo mangiato? No, che cosa abbiamo bevuto. Eccolo. Che cosa abbiamo bevuto? Abbiamo bevuto due vini bianchi. Però eravamo in cinque. Due vini bianchi. Ah, vabbè, ma i vini bianchi non sono calorici. Poi il rum l'abbiamo finito. Eh... La bottiglia nuova? Si. Eh, si. Quelli che me l'avevano regalata hanno deciso di finirlo insieme a me. Eh beh, certo. In realtà l'ho deciso io, però va bene così. E poi... Il mio amico Esteban Gonzalez se la fa in Tiena Riti se non arriva, non arriva ma ha rotto le casse a Matteo. Sai dove sono? Dove sei? Sono in piazzale San Giuseppo. Fausto. San Giuseppo. Andrea, fai stare qui. No, sei a casa tua. Andrea già ti richiama. No, 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 no. Andrea già ti richiama perché ti obbligo a Marcio. Andrea, guarda che domani mattina alle 10 dobbiamo partire, Andrea. Marco. Andrea. Marco. Marco. Marco, ascoltami. Io sono in piazzale San Giuseppo a 300 metri da casa tua. Vieni qua. Qua abbiamo un rumo agricolo paura. io stasera mi sfondo. Si suda un sacco. Cioè io adesso avrò peso altro... Avrò... Avrò perso altro peso, capito? Guardiamolo subito in questo momento di lapsus. Ma che capelli c'ho? Aspetta. Sei stupenda. Si eh? Beh questa luce... Allora io non... No, no. Allora io non... È verde. Non sto sudando tantissimo, più che altro sto mettendo a dura prova. No, Maria Grazia scuda. Chi esce un gocciolone da mezzo litro dalla scella quando torna a casa e basta. Che schifo. Una scella. Ma non farmi cominciare a ridere che ho qui proprio il tranzone che vuole uscire. Si. Praticamente sto mettendo a dura prova i miei muscoli, tutto il mio apparato muscolare ecco ne sta risentendo. Però... Non posso più fare questo semplice movimento che sento il... Il gluteo che è in tensione, cioè non lo so perché... Però... Ma non sai che domenica prossima dovrò essere meno di 87,2? Eh si eh? Cioè era un bel po' che non ero meno di 87 perché 87,2 vuol dire che sarò 86 qualcosa. Secondo me c'è un gioco psicologico, cioè... Perverso. Siccome hai sempre fatto questo tipo di allenamento basic perché non è che ci siamo sforzati chissà quanto, soprattutto prima dovete sapere che noi andavamo in palestra ed eravamo proprio dei... Una volta al mese. Non dirlo. Non dirlo. Ed eravamo invece molto precisi, puntuali e assidui. Dai perché gli devi dire delle palle? No, non è vero. Va bene, non è vero. Lascerò. Comunque iscriviamoci a... Ballo hip hop, siamo decisi eh? Sì sì, abbiamo preso appena adesso questa... Questa decisione da... Questo mese, vediamo se ci accettano e ci sono... Se ci azzecca. Se ci azzecca proprio. E ci sono... Quello è un cannone. E ci sono anche dei corsi interessanti, cominceremo a fare hip hop. Un cannone arma o un cannone... Un cannone arma. Ah. Un cannone arma. Un cannone arma ancora. Un cannone arma. 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 Um cannone arma. Un attacciaato ajero. Un cannone more. Grazie a tutti